E' venuto un dubbio, la custard, che sarebbe? Ah, la crema pasticcera, non lo sapevo, non lo sapevo, perché dice crema pasticcera, cioccolato e fragole. Beh, oh, mica male, si tratta bene sto Mash, eh, si tratta parecchio bene. Quindi, signori, questo è stato l'episodio 5 di Mashall, intitolato Mash Burn Dead e il compagno sfigatello. Penso si riferisce al tizio con i capelli rossi. Ora, l'episodio di base è stato un pochino un episodio di preparazione. Ci hanno messo questa parte iniziale delle mandragore un po' a perdere tempo, mettiamola così, non è che fosse chissà cosa, perché le dà simpatiche comunque le scenette della mandragora gigante, dello schiaffo, o comunque del fatto che lui è molto bravo nelle robe fisiche o nelle preparazioni in generale, però, vabbè, finisce a preparare i bignè per più di una volta addirittura. Poi rivedo di colori diversi, non si sa neanche come fa a farli verdi, rosa, bianchi, con sempre lo stesso ingrediente. Però, vabbè, comunque, carina come cosa, abbastanza carina. Però, lascia il tempo che trova come parte iniziale, insomma, comica, caruccia, ma finisce lì. E cerca anche disagiante. Vabbè, disagiante penso che ovviamente venga da disagio, però... Disaggiante. Scomodarsi, mettere a disagio. Quindi disagiante, immagino sia una persona che ti mette a disagio. Comunque sì, conosciamo lui, che io mi sarei aspettato un carattere alla Bakugo, non alla... Con chi lo potremmo paragonare lui come personaggio? Ovvero, sapete cosa mi sembra? Sì, 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 mi sembra proprio un misto tra Bakugo di Myro Academia e Zenitsu di Demon Slayer. Sì. Mi sembra un po' questo, perché Zenitsu pure aveva questa cosa con le donne, questo comportamento un po' così, anche se effettivamente forse era un po' più diretto. Cioè un po'... Era sempre molto simp, però un po' più... Più o meno, se la cavava meglio, mi pare, ad interagire con le tipe. Però comunque, considerando anche che urla un botto, secondo me sì, un Bakugo barra Zenitsu barra Roy, vabbè, Roy di Kamikatsu è una cosa a parte totalmente. Però... Ecco un altro Bakugo, è tutti Bakugo. Ottima combo, sì, una combo stupenda. Oppure tipo Sanji. Però anche qua Sanji se la cava con le donne, questo no. Questo qua, porca puttana, manco riusciva a parlarci, stava morendo. Quindi non lo so, non lo so. Poi abbiamo anche conosciuto questo tizio, che in realtà no. Ah sì sì sì, lui ha tre linee, quindi dovrebbe essere molto forte, che mi pareva l'avessero già fatto vedere, qualche episodio fa, però tipo brevemente, magari verso il finale di un episodio, non lo so. Però comunque qua è la prima volta che vediamo più che altro tutta la cricca al completo di quello che sembra essere una sorta di mangiamorte di Harry Potter. Non lo so, comunque una setta di... La setta delle marionette, le chiameremo così. Che attualmente sembra essere composta da sette persone e di sicuro avranno in mente delle cose poco piacevoli da svolgere nella scuola di Dimash. E vogliono... Ah, gli ha ordinato di rubare tutti i gettoni che hanno le persone. Perché a quanto pare forse pure lui vuole diventare veggente di vino o comunque vuole che uno dei suoi seguaci diventi un veggente di vino. Si vede nell'opening, sì sì. Forse si vede solo nell'opening, effettivamente. È una casata. No, mica questa è la casata Lang. No, ma ti pare che è la casata Lang. Ma non sembra una casata del... Sembra più una setta. A parte casata, sono sette persone. Sono sei persone. Mi aspetterei un po' di più per una casata. Però non mi sembra. Sì? È la casata... Questa è la casata Lang. Ma che cazzo... Ma chi so questi, oh? Questa qua è tipo una casata alla serpe verde grifondoro. Madonna santa. Cioè stanno in una tomba, stanno. In una tomba con le candele, le marionette. Poi ripeto sono in sei sono. Ok? Che magari non è tutta la casata. Però che roba strane. E... I veggenti di vino sono... Ok, ok. Allora già adesso acquisisce un po' più di senso il fatto che vuole diventare... Che vuole che uno di loro diventi un veggente di vino. Però che cazzo... Che roba strana. Che roba strana. Comunque, andando avanti poi arriviamo a metà episodio alla parte della foresta con gli scorpioni o quello che cavolo è. Conosciamo meglio questo tizio incrocio tra Zenizio e Bagugo. Non mi piace. Non ce ne trombia. Urla troppo. È troppo cazzone. Un po' stupido. Non mi dice molto. E poi è troppo simp. Un po' troppo simp. Cioè mi è piaciuta l'interazione che ha avuto con la tipa. Tutto, come dire, un po'... Come si può dire? Un po' timidino. Barra... Non adatto a questo tipo di situazioni. È stata caruccia come roba. Però è un po' too much. È un po' too much. Pure questa cosa in cui si sono sfiorati la gamba. E... Lei è un po' una troia. Bisognerebbe capire cosa vuole. Perché... Per quale motivo vuole... Cioè dice che il tipo... Il tipo quello là dei minerali la sta... La sta braccando perché vuole usare la sua magia. Probabilmente è una cazzata. Però teoricamente sta mandando loro due contro quel tipo. Perché dice che lo vuole... Le vuole fare del male. Quindi... Loro devono sconfiggerlo prima che faccia del male a questa tipa qua. Che per realtà è caruccia. Però alla fine si scopre che è una troia. Perché usa la magia dell'innamoramento per... Per rompere il cazzo alla gente. Quindi per... Come dire... Manipolare le persone. Quindi non è proprio il massimo. Ovviamente MASH non ci casca. Ora abbiamo anche la conferma che è anche resistente a questo tipo di magie di controllo psicologico, ormonali, non so bene come definirle. Quindi GG MASH è praticamente super mega OP. E... Mi è venuto, sapete, anche quasi il dubbio che magari era tipo imparentata con sto tizio. Perché per qualche motivo mi sembrano... Forse giusto per il colore dei capelli. Il colore dei capelli è un po' simile. E perché sono al fine entrambi dei bastardi, quindi... Però non avrebbe molto senso se sono imparentati o... O se sono collegati in qualche modo. Cioè perché dovrebbe volerlo... Fuori gioco. Però lui comunque è un po' un pazzoide. Roy meglio, esatto. Roy un po' meglio. Roy un po' meglio. E sputa le persone. Ma infatti non ha proprio senso. La cosa... La cosa iniziale di sto tizio che ha sputato a MASH, non l'ho poco capito. Perché? Cioè... Gli ha sputato... Gli ha sputato solamente perché... C'aveva una ragazza a fianco. Ma se era veramente la sua ragazza? Cioè questo qua ha visto un tipo con una ragazza a fianco e gli sputa. Va bene. Va perché dice che le cose non sono equi. Un po' pazzo. Un po' pazzo. Poi qua becchiamo quest'altro tizio con un altro bullo. Questo qua è tipo il quinto bullo che vediamo in cinque episodi. Ogni episodio ci sta un tizio che deve... Usare la sua forza per... Per avere la meglio sul prossimo. Che... Praticamente ormai in tutti gli anime che vedo ultimamente da Tokyo Revengers a Lukis... Ma questo è tutto così. Tutto con la violenza, i bulli e tutto quanto. Forse sono alleati. Eh però sarebbe strano se fossero alleati. Nel senso perché lei dovrebbe... Convincere le persone a farlo combattere... A farle combattere con questo tizio qua. Non lo so. Non lo so. Staremo a vedere. Però di sicuro qualche collegamento c'è. Non credo siano imparentati. Però... Staremo a vedere. Staremo a vedere. E poi boh... Il finale è semplicemente Mash che perde il suo povero Bignè. E quindi credo che nel prossimo episodio darà un bel... Un bel cazzottone a... A sto tizio lo farà volare. Volare molto lontano. E boh... Cioè alla fine è un episodio onesto. Niente di assurdo. Lui non fa parte dei Lang? Potrebbe. Sì. Sì. Effettivamente penso proprio di sì. Penso proprio che questo tizio faccia parte dei... Dei Lang. Anche se... Non so se l'hanno detto in questo episodio. Se fa parte. Però... Avrebbe senso. Cioè per come si comporta. Per quanto è scoppiato. Penso avrebbe senso. Buonasera anche a Punitore. E buonasera anche a Gillemon. Comunque. Il voto che io darei a questo episodio... Che voto possiamo dargli? Non un votone. Non un votone. Sinceramente non mi ha fatto... Impazzire. Cioè... Un episodio... Onesto. Ma niente di che. Anche perché hanno interrotto a metà... La parte iniziale delle Mandragore. Carina ma ok. E poi la parte finale l'hanno interrotta. Quindi non abbiamo potuto... Non abbiamo avuto modo di vedere come va a finire. Allo scorso episodio ho dato 7,5. Credo che lo scorso era decisamente meglio di questo. Sapete. 7,71. Il vostro voto. Molto. Quindi... 7,25 dai. 7,25. Non siamo troppo cattivi. Però... Però non gli voglio dare la X. Non mi ha detto niente questo episodio.